In base al tipo di trattamento che si vuole effettuare, possono essere utilizzati alcuni tipi di prodotti liquidi che sono stati progettati appositamente per i nebulizzatori geyser, con differenti effetti e modalità di applicazione. Abbiamo uno zanzaricida concentrato e diversi disabituanti profumati per allontanare le zanzare. Quali di questi vuoi approfondire? Grazie.